Il programma è offerto da SiaTrag, Autostrade del Mare, impresa portuale ex articolo 16. Buonasera e benvenuti su Politica e Territorio, il programma offerto da SiaTrag, Autostrade del Mare. Siamo vicini alle elezioni e dopo la scorsa puntata continuiamo ad ascoltare le interviste ai candidati sindaco per Livorno. Stasera ascolteremo le video interviste di Alessandro Cosimi e Giovanni Pezzone che andranno in onda subito dopo questa diretta dove parleremo con Costanza Vaccaro. Benvenuta Costanza. Buonasera Giulia e ben ritrovati a tutti i telespettatori di Telecentro. È un piacere essere qua. Benissimo, ci ritroviamo proprio qua nella nostra sede storica di Telecentro e entriamo subito nel vivo della puntata. Riprendo proprio delle sue parole che sono state pubblicate sui quotidiani qualche mese fa. Stefano Bandecchi mi ha chiesto di candidarmi a sindaco di Livorno per fare qui quello che lui ha fatto a Terni, dimostrando che se si vuole anche in politica le cose si possono fare. Ecco, riprendendo proprio queste parole, candidata Vaccaro, a cosa si riferisce? In cosa si differenzia Alternativa Popolare? Alternativa Popolare con Stefano Bandecchi è il partito del fare. Quando lui mi chiamò in effetti mi disse Vaccaro, dice io 11 mesi fa mi sono candidato a Terni e sono partito con un sondaggio che mi dava al 3%, ho bussato alle porte delle case popolari, alle porte dei quartieri dove le persone soffrono di più, mi sono preso ovviamente anche qualche sonoro porta in faccia, ma ho parlato con le persone, ho messo la faccia, ho spiegato quelli che erano i miei programmi e prima sono andato al ballottaggio sconfiggendo il centro-sinistra, al ballottaggio con il centro-destra e al secondo turno poi ho triunfato anche sul centro-destra. Oggi dopo 11 mesi il mio indice di gradimento è aumentato di due terzi, perché? Perché sto risolvendo le cose, perché qua è da 50 anni, destra-sinistra, che tutti parlano, ma nessuno porta in politica quella capacità, quella visione manageriale che io da imprenditore, ovviamente ormai da anni, ho portato in politica provando e cercando di risolvere le cose come sto facendo. Lui mi ha detto, va caro, faccia una cosa, lei mi metta alla prova, qua a Terni non la conosce assolutamente nessuno, lei venga a farsi un giro qua a Terni, senta i miei concittadini che cosa pensano del sindaco e della squadra di assessori che io ho messo in campo e dopodiché scenda in campo con me e le chiedo di fare da sindaco di Livorno il bene della città di Livorno come io sto facendo il bene della città di Terni. E queste sono parole che effettivamente mi hanno molto colpito. E noi abbiamo avuto anche la riprova di questo perché quando abbiamo raccolto le sottoscrizioni per presentare le nostre liste elettorali, io sono sostenuta da due liste, la lista di partito alternativa popolare e la lista civica Livorno per loro, quando noi raccoglievamo le firme venivano persone livornesi che venivano a firmare perché magari avevano i parenti a Terni o anche a Perugia che sentivano parlare i loro parenti, i loro amici indistintamente di destra così come di sinistra, bene del sindaco Bandecchi, bene di quello che sta facendo la giunta Bandecchi a Terni, quindi venivano perché dicevano se là lui sta risolvendo le cose con questo suo pragmatismo, con questa sua capacità del fare, con questa sua schiettezza che lo ha portato a essere uno dei più grandi anche a livello nazionale, uno dei più grandi imprenditori, quindi ha evidentemente una visione tarata per risolvere i problemi e puntare all'obiettivo, beh perché non provarci anche a Livorno, quindi dico la verità che molti nostri sottoscrittori sono persone che sono venute incuriosite dal fatto che i loro parenti a Terni parlavano bene del sindaco Bandecchi e della giunta, e questo è stato. Chiarissimo, a inizio mese nelle scorse puntate abbiamo citato la festa del primo maggio e chiaramente la storia che porta con sé, e tra poco ci apprestiamo a festeggiare un'altra ricorrenza importante, quella del 2 giugno, che peraltro segnò l'ingresso delle donne nella vita politica, quindi la domanda viene da sé, da donna, come vive questo momento di grande impegno politico? Lo vivo con grande senso di responsabilità, anche e soprattutto non solo per quello che è stato, ma per quelle che sono le difficoltà tante della mia comunità. Lo vivo ben sapendo che niente può darsi, soprattutto in un periodo, in un contesto epocale come questo, niente è assolutamente dato per scontato, e lo dico a maggior ragione dopo che oggi, purtroppo, ne sentirete sicuramente parlare anche nei telegiornali, mi hanno imbrattato, sono entrati in una struttura privata, hanno strappato e imbrattato due maxivele, eccole qua, che pubblicizzano i manifesti della mia campagna elettorale, e quello che è veramente disarmante sono proprio le scritte, non ti si vuole fascia, ti si vuole solo appesa. Ecco, proprio questi bigliacchi, che di notte, quindi proprio in modo bigliacco, al buio, e quindi di nascosto, entrano in una struttura privata, infatti presentiamo ovviamente apposita denuncia. Certo, fatto gravissimo, distintamente da qualsiasi tipo di orientamento politico. Che danno poi, che danno queste persone del fascista a qualcuno, quando loro sono i primi che con questi metodi violenti in buona sostanza impediscono agli altri, a chi non la pensa come loro, di esprimere le proprie idee in modo democratico, parola che evidentemente loro non sanno neppure dove sta di casa, beh, veramente fa capire che è un contesto molto particolare. Mi dispiace perché io ho sempre concepito le istituzioni, l'impegno politico, seppur con passione, è quello che mi riconoscono tutti, io ci metto sempre la faccia, non ho paura a rimanere da sola, a rivendicare le mie idee, se sono esattamente quelle che penso e quelle che mi vengono dal cuore, però spiace perché io sono sempre stata molto rispettosa delle istituzioni. Quindi certe parole, certi inneggiamenti alla violenza, mi ha fatto molto piacere che tra le tante persone che mi hanno chiamato, proprio prima di entrare nella vostra sede, mi ha chiamato anche il segretario del Partito Democratico, Federico Mirabelli, che ringrazio, che a nome di tutto il partito, mi ha espresso la sua solidarietà. Fa piacere perché io al Partito Democratico e al sistema di potere che secondo me rappresenta il Partito Democratico, sono 19 anni che non faccio sconti. E men che mai li ho fatti in questi cinque anni in Consiglio Comunale, dove io, proprio perché sono stata eletta con il più grande numero di preferenze, conseguendo il più alto numero di preferenze personali, sia rispetto ai consiglieri di centrodestra, ma anche rispetto ai consiglieri centrosinistra, questo è stato per me, se possibile, un ulteriore rafforzamento nella mia volontà di perseguire sempre e comunque il bene della mia comunità. Per cui io ogni volta, prima di votare un atto, non mi sono mai chiesta se fosse un atto che mi procurava interesse dal punto di vista partitico, se fosse un atto che in qualche modo dovevo votare perché così doveva essere. Io mi sono sempre chiesta, in buona fede, ho sempre dato la risposta a questo atto. È negli interessi della mia comunità, rientra ed è coerente con quelli che sono i valori che io voglio portare in politica. Poi, ripeto, posso anche sbagliare, ma se sbaglio sono in buona fede. E la cosa che vorrò sempre conservare nella mia vita è quella di, dopo 19 anni di militanza sul territorio, dopo aver scelto sempre il mio territorio, perché io ho fatto politica anche a livello regionale, sono stata diverse volte, diciamo, anche a Roma, non come parlamentare, ma come, diciamo, dirigente di partito, però il mio cuore ha sempre battuto per la mia città. Non ho mai scelto una volta una strada in discesa, mai. Ho sempre scelto le strade in salita, perché vi assicuro che fare politica qua a Livorno, dalla parte opposta al PD, non era propriamente facile. Pur assumendomi sempre anche la responsabilità di dire, come ho fatto al sindaco Salvetti in Consiglio Comunale, caro sindaco, su questi temi sono più a sinistra io di te, perché su alcune partite assistenziali, diciamo, sociali, solidaristiche, come dire, le mie posizioni erano molto più a sinistra di quelle di Salvetti. Infatti io dico sempre, alla fine, né destra né sinistra, io sono per il buonsenso, sono per le idee vaccariane, cioè sono per il buonsenso semplicemente. E una cosa, la dico sempre, io non so se le mie idee, le mie ricette per questa città sono giuste. Io sono convinta che sono giuste, perché dopo tanti anni ho l'ambizione e la consapevolezza di sapere che tutto quello che ho studiato, che tutto quello che ho percepito dai cittadini, stando tanto nelle piazze, nelle vie, nei quartieri, a contatto con loro, io lo so che sono le ricette giuste, che ho interpretato con le soluzioni giuste. Però non posso garantire al 100% che lo siano. La cosa che vi garantisco è che quello che dico io faccio, anche a costo di dimettermi e andare a casa. Perché la politica ha una grande passione, è una passione forte, ma è anche un grande impegno. E la politica la fai fin tanto che sei libero di farla. Per cui io sono, ogni giorno rinnovo la libertà di farla. Nel momento in cui dovessi rendermi conto che non ho quella libertà, e penso di averlo dimostrato lasciando anche sempre i partiti del centro-destra, lasciando quei partiti sempre da posizioni di vertice e posizioni apicali. Nel momento in cui io sento che c'è qualcosa che frena la mia energia, che condiziona le mie scelte, o che prova a piegare quelle scelte verso interessi settari, interessi che non mi appartengono, state tranquilli che io la poltrona, la poltroncina, la poltronciona, io la lascio, mi assumo sempre la responsabilità di andare in mezzo alla gente, di dire non ce l'ho fatta, piuttosto dico non ce l'ho fatta, ma devo essere sempre libera di incontrare i miei concittadini, stringerli la mano, guardarli negli occhi e dire io ci ho messo tutta me stessa. Grazie candidata Vaccaro per questo intervento che racconta sinceramente quelli che sono i valori che emergono proprio da donna candidata e che porta nel suo programma. La libertà, la sincerità, la lealtà sono sicuramente dei valori che emergono dal suo racconto e allora andiamo ad approfondirli, andiamo a declinarli in quelle attività, in quelle soluzioni, in quelle ricette, come ha detto, che sono pronte per essere servite nel caso fosse appunto eletta come sindaco. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di lavoro, di decoro e di sicurezza, che sono un po' i temi caldi che sicuramente toccano i cittadini e i nostri telespettatori. Quindi per offrire una panoramica esaustiva raccontiamo anche cosa ha in servo alternativa popolare per questi settori. Partiamo dal lavoro. Cosa ha in programma per sostenere i lavoratori e le imprese di Livorno? Il dato di fondo è che in questi anni il modello di sviluppo economico nella nostra città è stato concepito secondo un modello di rigido conservatorismo. Per cui anche quelle società che dovrebbero in qualche modo essere aperte e contribuire a creare ricchezza e economia, penso ad esempio al Porto, oppure anche quelle società a partecipazione pubblica che quindi si occupano di dare un servizio pubblico, sono state concepite spesso e volentieri più come centri blindati di potere piuttosto che come occasione, parlo in particolare in questo caso del Porto, piuttosto che come occasione per creare ricchezza sui nostri territori. Non a caso di tante volte ho detto che in questa città c'è una sorta di cappa che le impedisce di respirare, una sorta di fumo, di cortina di fumo impenetrabile che impedisce alla nostra città di esprimere le sue potenzialità, di sprigionarsi per quelle potenzialità che potrebbe esprimere e che oggi invece rimangono purtroppo sempre e comunque inespresse perché al netto dei tanti problemi che abbiamo e che hanno in tante altre città, veramente Livorno ha tantissime potenzialità anche dal punto di vista socio-economico e dal punto di vista occupazionale. Invece i dati purtroppo sono assolutamente sconfortanti, uno per tutti. Nei primi nove mesi del 2023 hanno chiuso a Livorno, hanno chiuso i battenti, 143 aziende, vale a dire 15 al mese, cioè una ogni due giorni, con una flessione di quasi il 2%, questi sono dati della Camera di Commercio, del 2% rispetto all'anno prima. Non solo, il sindaco dice è aumentata però un po' l'occupazione, sì ma però omette, peccato di dire, che quella poca percentuale in più di occupazione, parliamo di un 1 scarso, ok, sono tutti contratti a tempo determinato, quindi tutti contratti spesso e volentieri non così irretribuiti e che comunque sicuramente non costituiscono la panacea di tutti i mali, che sono soprattutto nell'ambito della somministrazione di cibo, di bevande, eccetera, eccetera, e nell'ambito del turismo, quindi veramente lavori abbastanza precari. E la qualità, diciamo così, scadente del lavoro incide sulla qualità della vita dei nostri concittadini. Non a caso Livorno in un anno è capitombolata di 14 posizioni. Nelle classifiche nazionali stilate ad esempio dal sole 24 ore, siamo finiti al 66esimo su 107 e nella nostra realtà i due punti su cui maggiormente siamo deficitari e malati, addirittura siamo tra le peggiori realtà in Italia e fanalino di coda in Toscana, sono proprio il lavoro e la sicurezza. Perché il lavoro? Perché qua, pur essendoci tante potenzialità, è mancata una visione imprenditoriale applicata all'azione amministrativa. Ecco perché mi ha convinto il sindaco Bandecchi, ecco perché a me piace quello che il sindaco Bandecchi sta facendo nella sua città e se volete entriamo anche nel merito proprio concreto. Ne dico una per tutte. Una delle gravi mancanze delle amministrazioni, delle gravi problematiche delle amministrazioni è quella di asfaltare le strade. Perché asfaltare costa tanto. Costa circa, un chilometro di strada ad asfaltarlo costa circa 150-160 mila euro. Il sindaco Bandecchi ha detto Benissimo, che cosa facciamo a Terni? Compriamo i macchinari con un investimento di 5-600 mila euro, ammortizzabile in 20 anni, sono qualcosa come 30 mila euro l'anno, che per un comune come Liborno che ha 197 milioni di euro di avanzo di bilancio è niente. compriamo i macchinari e gestiamo l'asfaltatura delle strade e dei nostri marciapiedi in house. Cioè li gestiamo al nostro interno, risparmiando il 50% della spesa. Quindi un chilometro non più 150-160 mila euro, ma 75-80 mila euro. Con gli altri 80 mila euro che si possono, tra virgolette, risparmiare, tu o raddoppi i chilometri di strada che puoi andare ad asfaltare e a Livorno ci faresti tutta a Livorno, oppure molto semplicemente investi quei soldi, come sta facendo lui adesso, per combattere la disoccupazione delle persone più fragili. Noi l'abbiamo inserito nel nostro programma. Abbiamo preso la delibera di Terni e noi, pari pari, se io diventerò sindaco, sarà tra le prime delibere che varierà la mia giunta il lavoro di cittadinanza. Per le persone che hanno una fragilità socio-economica, socio-laborativa importante, persone di 60 anni che magari hanno perduto il posto di lavoro e a cui mancano ancora anni per arrivare alla pensione, oppure persone che hanno perduto il reddito di cittadinanza e che sono a rischio di esclusione sociale, noi daremo una indennità mensile a queste persone per fare per 4-5 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, lavori di pubblica utilità, cioè di cittadinanza attiva, che possono andare dal volontariato al sociale, a far attraversare, che so, i bambini di fronte alle strisce, di fronte alle scuole, lavori socialmente utili, pulire i parchi, manutenere, a Terni è l'unica realtà in Italia che sta facendo questo, quindi non sto sparando un qualcosa che poi non farò in campagna elettorale, quindi non mi sto improvvisando, io so esattamente dove andare a mettere le mani, che è esattamente quello che io ho in qualche modo criticato al giornalista sindaco Luca Salvetti, che 5 anni fa si è voluto improvvisare così dal Partito Democratico, l'ha tirato fuori dal cilindro, come candidato sindaco e per anni abbiamo visto, ho visto la sua inadeguatezza politica, cioè quando tu non sai dove metterle mani, nella migliore delle ipotesi stai impantanato per 5 anni, nella peggiore finisci nelle mani dei dirigenti o dei partiti politici che condizionano la tua azione politica e amministrativa, io so esattamente dove metterle mani, a me dove metterle non me lo insegna nessuno, ed è esattamente quello che ho criticato anche al centro-destra, un centro-destra che a Livorno continua a essere litigioso e per occultare, per nascondere le sue contraddizioni, il suo essere inadeguato, il suo essere diviso su tutto, il suo essere assolutamente non alternativa al centro-sinistra, che cosa fa? Ha candidato a tre mesi dalle elezioni, anche qua hanno tirato fuori dal cilindro, il nome di una persona, Alessandro Guarducci, già caporedattore per 10 anni del Tirreno, un uomo che tutti immaginavamo essere di centro-sinistra, la cui debolezza politica è la migliore carta vincente per Salvetti al ballottaggio di vincere, infatti Salvetti chi vuole al secondo turno al ballottaggio? Guarducci, non vuole la sottoscritta perché sa che con Guarducci vince 70 a 30, con la Vaccaro le carte completamente si vanno a scompaginare perché sono l'unica che prende voti, sia a destra ma anche a sinistra, da quella sinistra vera a sinistra del Partito Democratico che ha visto per 5 anni come ho lavorato in Consiglio Comunale, che ho visto che non sono una persona che in 19 anni ha fatto un solo inciucio, un solo compromesso in politica, il tipo di opposizione che ho fatto ma anche seria e costruttiva perché io alcune cose del PD che andavano a favore della mia città le ho votate, ma che ho sempre avuto davanti gli interessi della mia comunità, io voti li prendo a destra e li prendo anche a sinistra del Partito Democratico il quale PD oramai non ha più nulla di sinistra perché lo dico sempre a livello nazionale è diventato lo scendiletto dei poteri forti e a livello locale è qualcosa da annacquato che ancora non si capisce che cos'è. E vi ricordate che Salvetti 5 anni fa da candidato civico, perché il civismo è la foglia di fico dei partiti per nascondere la loro inadeguatezza agli occhi degli elettori, quante volte ha detto chiedetelo al PD salvo poi arrivare in Consiglio Comunale e constatare che senza il Partito Democratico che forma la sua maggioranza lui non approverebbe mezzo atto senza il che il PD non voglia. Da quest'altra abbiamo il candidato Guarducci che non ha chiamato la sua coalizione di centrodestra, forse perché dentro c'è anche azione di calenda, ha chiamato la coalizione di rinnovamento, forse perché si vergogna a chiamarla di centrodestra, fatto sta che quando ci si improvvisa, ripeto, non si fa mai, tra virgolette, anche in buona fede non si riesce mai a portare avanti quello che si dice e quello che si promette in campagna elettorale. I miei concittadini sanno dopo i 19 anni che se io entro da sindaco in quella porta, in quel comune, a Palazzo Civico, state pur tranquilli, che siccome io anche nel programma ho studiato coperture di bilancio e quant'altro, io quello che ho detto, lavoro, sicurezza, lavoro di cittadinanza, la polizia, il lucro antigrado della polizia locale, io quello che ho detto faccio. Ecco le ricette con una visione menageriale, come dicevamo prima, per quanto riguarda il tema del lavoro di alternativa popolare attraverso la voce e la testimonianza di Costanza Vaccaro. Ma adesso continuiamo a parlare di risorse, perché il lavoro sicuramente ci fa pensare alle opportunità e alle risorse che Livorno ha e pensando a questo sicuramente non possiamo trascurare la bellezza del nostro territorio. Pensiamo chiaramente al porto, al centro di Livorno che spesso è stato oggetto di discussione qui in puntata, proprio in merito alla riqualificazione e quindi alla cura delle bellezze e delle risorse del nostro territorio. Parlando di decoro, parlando di riqualificazione, qual è il suo pensiero? Molto velocemente, mi è venuto a mente che non ho detto un passaggio importante sul lavoro, Giulia, se fosse possibile, perché noi vogliamo prevedere un team in una sorta di obiettivo sviluppo Livorno, un team composto da soggetti privati e soggetti pubblici in ambito economico come anche in ambito intellettuale, quindi un team molto particolare che da una parte possa intercettare sostanzialmente i fondi del PNRR che sono stati assolutamente, nonostante gli annunci e le parte del sindaco Salvetti sono state assolutamente queste sparate ridimensionate, perché a Terni ad esempio hanno preso oltre 130 milioni dal PNRR, Livorno e Salvetti, e Livorno è una realtà più grande ovviamente di Terni, si è fermata a 90 milioni di euro, quindi un nucleo che possa in qualche modo intercettare i fondi del PNRR ad esempio per rifare tutti i nostri impianti sportivi, per riefficientarli dal punto di vista anche energetico, perché ne abbiamo bisogno, perché lo sport è turismo, quindi è occupazioni, quindi è economia sul territorio, ma ne abbiamo bisogno anche per i nostri giovani, perché è convivenza, perché è socialità, perché è... Aggregazione e punti di collegamento appunto tra decoro e lavoro, ecco per... Esattamente, questo è... Esattamente, e poi diciamo un team che possa, diciamo così, fare proprio marketing territoriale ad hoc per attrarre investimenti e che quindi faccia anche da supporto e da consulenza, perché si parla di far entrare industrie, si parla di ripristinare il manifatturiero, per tutte quelle imprese che vogliono ad esempio venire e investire a Livorno e che devono conoscere le potenzialità legate allo sviluppo della logistica e quindi da questo punto di vista offrire anche consulenze sulla innovazione 4.0, sulla logistica 4.0, sono tutte opportunità, anche economicamente importanti, che possono attrarre qua delle aziende, ma le aziende quando poi vanno a interloquire con un'amministrazione che in tanti casi, me lo hanno detto gli imprenditori, manco li risponde, di che cosa vogliamo parlare? Lo vogliamo capire che il lavoro lo portano le imprese e le buone imprese si devono insediare a Livorno per portare a loro volta buon lavoro e buona occupazione. Ritorno al, diciamo, al decoro. Quante volte abbiamo sentito i turisti di scendere dalle navi, a parte vederli girovacare per centro, che chiedono informazioni a tutti perché veramente li vedi così abbandonati a loro stessi, quindi manca una cartellonistica, manca tutto, un punto informazioni che dia veramente anche una situazione più, diciamo, il punto c'è, ma insomma una situazione più organizzata, cosa che ora assolutamente secondo me non lo è affatto. Ma, diciamo, i turisti dicono Livorno è una città bella, ma è una città sporca e Livorno è il nostro biglietto da visita e non è vero che a Livorno non ci sono cose da vedere. Noi ad esempio abbiamo il quartiere La Venezia, abbiamo il sistema delle fortezze con i fossi medicei e io sono dell'idea che dobbiamo assolutamente fare la bellana per liberare i fossi medici dalle imbarcazioni più grandi, ma comunque dobbiamo tenere ancora le cosiddette barchette nei fossi perché i turisti anche quando vengono le apprezzano molto, sono suggestive la sera vedere tutti quei fossi bellissimi che riluccicano con tutte quelle barchette ormeggiate, quindi conservare la tradizione della nostra città. Abbiamo Montenero che è il santuario mariano per eccellenza e quindi potremmo declinare il turismo sotto tanti punti di vista, quello balneare legato ovviamente alla balnazione, quello enogastronomico, quello escursionistico legato ovviamente alle colline livornesi che devono essere tenute, pulite e manutenute, quello sportivo come si diceva ora. Forse non tutti si ricordano Giulia che 15-20 anni fa Livorno era la prima meta sportiva turisticamente parlando d'Italia. Oggi anche qua siamo forse oltre il trentesimo posto, cioè venivano da tutta Italia perché Livorno non a caso siamo tra le città plurimedagliate a livello olimpico e venivano qua perché qua prima si svolgevano sostanzialmente le gare, i campionati sportivi anche a livello apicale. Oggi non si fanno più perché non abbiamo più gli impianti sportivi idoni ad ospitare certi eventi. Quindi quando io dico intercettare i fondi del PNRR affinché si rifacciano gli impianti sportivi, affinché i soggetti affidatari di quegli impianti sportivi possono proporsi alle federazioni nazionali e regionali come per ospitare degli eventi apicali e quindi tu fai venire qua le persone, la gara 9 su 10 si svolge nel fine settimana, le fai venire qua e a quel punto gli vendi il pacchetto Livorno, tu le fai dormire qua, le fai mangiare qua, gli offri quello che la città può offrire. Ovviamente anche le sue bellezze, anche il turismo legato alla balneazione. Vogliamo prendere un turista e portarlo ora a lungomare e vedere quel degrado di quelle baracchine faticenti che sono state lasciate diciamo all'oblio in tutti questi anni? È una situazione che è veramente, è questo che io dico, è mancata una visione diciamo nell'ambito dell'azione amministrativa, non c'è stata una visione applicata ad una mentalità manageriale che dovessi avere degli strumenti anche straordinari come quelli che voglio mettere in campo io, di questo team manageriale che farà direttamente riferimento a me, che risponderà esclusivamente al sindaco, ripeto, per fare marketing territoriale, per attrarre investimenti, per fare da consulenza e da supporto alle aziende e in qualche modo per mettere a sistema tutte queste potenzialità che ci sono ma che se rimangono scollegate, decontestualizzate rispetto ad una visione d'insieme non porteranno mai lavoro, occupazione. Vogliamo parlare poi delle aree mercatali della via grande? Voi sapete che penso di essere forse tra i consiglieri comunali, forse il consigliere comunale che sulla sanità, sul mercato, sull'area mercatale, sulla via grande ha fatto più atti di tutti. Ne abbiamo parlato anche proprio qui in puntata a Telecentro. Esatto, ne abbiamo parlato anche tante volte a Telecentro. Ancora le tanto attese, annunciate, promesse di riqualificazioni ancora sono solo, soprattutto nell'area mercatale, sono solo sui rendering futuristici che ci sono costati centinaia di migliaia di euro con questi concorsi di progettazione che in realtà potevano essere tranquillamente evitati. Come? Affidando, diciamo, la progettualità della riqualificazione dell'area mercatale e della via grande nemmeno che ai tecnici e ai progetti che già c'erano all'interno dell'amministrazione comunale. In particolare sul mercato c'è un bellissimo, ce l'ho, un bellissimo progetto datato 2016 che è fatto tra l'altro da quelli del consorzio dell'area mercatale che doveva essere, come dire, riammodernato, riaggiornato ai parametri agli attuali, diciamo, ai tempi attuali. Questo ci avrebbe consentito di risparmiare non soltanto tanti, tanti, tanti soldi. Anzitutto 500 mila euro per il concorso progettazione, cioè solo per capire da dove si parte. Pronti partenza via? Solo per capire da dove si parte? 500 mila euro. Quei soldi sarebbero stati molto più utili se utilizzati subito per la riqualificazione. E poi, ripeto, non solo soldi ma anche tempo prezioso, perché nel frattempo in questi anni, 5, ma diciamo pure in questi 10 anni, quell'area, l'area mercatale, il centro storico, si è sempre più desertificato, perché si è sempre più degradato e quindi è sempre stato più abbandonato, non soltanto, diciamo così, dai commercianti, ma anche dagli stessi avventori, che purtroppo si trovano spesso e volentieri alle 18, soprattutto d'inverno, a scappare via a casa, perché hanno paura, quando fa buio, a transitare serenamente in una via. Le stesse commesse di Via Grande ci dicono, va caro, noi quando chiudiamo la saracinesca qua, sappiamo quello che troviamo dentro, ma non sappiamo quello che troviamo fuori da questa saracinesca e molte volte i nostri mariti, i nostri fidanzati, debbono venire a prenderci, perché c'è una situazione veramente di grave insicurezza e di grave difficoltà. Quindi, hanno perso tempo, hanno perso, diciamo, soldi, perché rispetto agli attuali 8 milioni e mezzo di euro complessivi, si poteva risparmiare moltissimo e avere a quest'ora una situazione già di riqualificazione, perché ad esempio la Via Grande, anziché sostituire quella pavimentazione storica, la palladiana con dei mattonellati veramente improponibili, che dal mio punto di vista disturbano il senso estetico, ma anche e soprattutto il senso architettonico e storico di una via bella come quella, al netto del fatto che ci sono molti dubbi sul fatto che lo possa fare, ma non entro nel merito perché i portici sono privati ad uso pubblico, il punto è sostituire una palladiana con quei mattonelloni quando sarebbe bastato, con un progetto riprocedere con, diciamo, la levigatura e il rifacimento certosino artigianale di quella bellissima palladiana che avrebbe continuato a conservare, che io spero continui, perché vuol dire che Salvetti l'ho mandato a casa, perché in quel caso io stopperei immediatamente i lavori, di una bellissima palladiana che ha tutto il diritto di continuare ancora ad essere goduta dai cittadini livornesi e dai tanti turisti che vengono nella nostra via. Ha citato prima il posizionamento di Livorno nella classifica del sole 24 ore rispetto alla sicurezza e anche adesso parlando di decoro e rammentando le persone, i negozianti che devono chiudere e hanno timore, appunto ci colleghiamo al tema della sicurezza e della percezione appunto che i cittadini hanno, qual è il sentiment di alternativa popolare e quali appunto le misure che avete pensato per incrementare questo tipo di tutela? Che questa della sicurezza è una priorità, perché la sicurezza è la libertà dei cittadini di vivere, di muoversi, di uscire di casa senza timore, di non vivere con terrore. Il rientro a casa della figlia o del figlio dopo un certo orario la sera perché non sai che cosa gli può succedere sotto al portone. Quindi per noi è sicuramente uno dei primi punti su cui vogliamo mettere mano praticamente quasi a costo zero e spiego perché. Livorno lo sappiamo, ogni giorno è un bollettino di guerra, cioè basta aprire il giornale e ogni giorno vediamo l'inferno e veramente tutte le problematiche a cui sono piegati i nostri concittadini, siano essi residenti sempre più esasperati, soprattutto quelli del centro storico che sono sempre di più confinati in un centro desertificato, abbandonato, insicuro, sporco purtroppo e degradato, ma anche commercianti che veramente si trovano in una situazione di difficoltà proprio economica perché noi parliamo di realtà che hanno subito tantissimo da questo punto di vista, non è solo la via Grande, c'è via Ricasoli, via Marradi, tutto quanto il centro storico, la stessa area mercatale purtroppo e questo non è soltanto dovuto alla sicurezza ma ad un insieme di politiche scellerate che riguardano ovviamente le scelte sulla mobilità, il fatto che mancano i parcheggi nella nostra città, il fatto che abbiamo una viabilità assolutamente caotica e cervellotica, il fatto che abbiamo una pressione fiscale che spreme i nostri concittadini, c'era un rapporto di un'associazione che diceva che praticamente è un osservatorio più che un'associazione, che diceva che noi siamo al centodecimo posto su 114 comuni analizzati per livello di tassazione di pressione della tassazione fiscale locale sulle imprese, 110 su 114. Vuol dire che siamo tra i più massacrati di Italia, da questo punto di vista apro e chiudo parentesi, la Tari e sulla Tari Giulia se dopo ne parliamo perché io so esattamente quello che dico, noi la Tari la andiamo a ridurre perché abbiamo una visione industriale sulla gestione politica dei rifiuti e siamo gli unici che possono promettervi di ridurre la Tari perché hanno una visione, una scelta politica legata alla visione industriale che evidentemente si lega al termo valorizzatore che altri non hanno o che altri non vogliono applicare, non so per quale motivo, o meglio io il motivo lo so perché magari firmano in campagna elettorale cose di cui poi si pentono dopo, vedasi Salvetti quando 5 anni fa firmò il protocollo con rifiuti zero che avrebbe chiuso il termo valorizzatore, promise nel 2021, poi ha disatteso la promessa, poi nel 2023, ora nel 2027, quando sa già che anche nel 2027 non riuscirà a chiuderlo perché se lo apre quell'impianto, la ristrutturazione dell'impianto che oggi è chiuso per motivi di manutenzione, quella manutenzione costerà 20 milioni di euro, quindi una pubblica amministrazione non può spendere 20 milioni di euro per ristrutturare un impianto che poi deve chiudere due anni dopo perché quella cifra non ce la farà mai ad ammortizzarla, quindi delle due luna, o quell'impianto lo apre con quei costi e non chiuderà nel 2027 oppure quell'impianto lo lascerà chiuso con tutti i rischi sui bilanci dell'azienda AMS, ma non entro nel merito se volete comunque ci entriamo, ritorno sulla sicurezza, quindi un centro sempre più degradato, sempre più in difficoltà, i nostri cittadini sempre più esasperati, tutte le volte ho provato a denunciare queste cose in consiglio comunale, nella migliore delle ipotesi mi si dava del gufo, cioè l'avaccaro che gufa contro la sua città, che ama parlare della sua città, nella peggiore la questione veniva liquidata come una percezione sbagliata della città, quindi di fatto stavamo denunciando un problema che non esisteva e talmente stavo denunciando un problema che non esisteva che oggi il sindaco in campagna elettorale, sapendo di aver completamente fallito sul piano della sicurezza, si inventa il security manager come fa Sala, scopiazza Sala, va bene, nel senso il problema è che si avrebbe fatto molto meglio ad ascoltare l'avaccaro che il consiglio comunale gli diceva, caro sindaco, io ho una foto col consigliere di Liberti che gli do una sveglia, lui se l'è presa tanta male, caro sindaco sveglia perché i nostri cittadini non ce la fanno più e la sicurezza veramente incide sulla libertà e sulla qualità della vita di ciascuno di noi, noi che cosa proponiamo? Punto primo, una vigilanza di quartiere assolutamente capillare, vigili di quartiere sempre soliti che a turnazione stanno sempre nel solito quartiere, a ciascuno diciamo così il proprio quartiere in modo tale che entri anche la confidenza con i membri del quartiere, diventino dei punti di riferimento, esattamente, quindi vigili di quartiere, la polizia locale deve lavorare anche la notte, mentre invece oggi in inverno, in notturna, la polizia locale non c'è per cui se il cittadino chiama è diciamo nei meandri della burocrazia, chi più ne ha più ne metta e io voglio sempre all'interno della polizia locale, quindi tutto in auso, ok? Quindi in questo momento diciamo soltanto avendo una collaborazione con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardie di finanza, creare un nucleo specializzato antidegrado di polizia locale che anche in borghese, sulla base delle segnalazioni che faranno i cittadini andranno a monitorare, controllare, a fare indagini, ripeto, anche d'intesa con ovviamente, in collegamento con le forze dell'ordine, per verificare che non ci siano magari episodi di illecità, oppure episodi che possono dare conseguenze di allarme sociali, di rischio sociale, oppure comportamenti di degrado su cui attecchisce la criminalità e la delinquenza, questo anche per rafforzare che cosa? Una filiera virtuosa, cioè il cittadino che sa che se segnala, quella segnalazione viene presa in carico dalla polizia locale che poi va, va a indagare, va a monitorare, va a vedere, tu responsabilizzi anche il cittadino a collaborare con le forze dell'ordine per rendere più sicuro il proprio territorio, invece oggi i cittadini ti dicono abbiamo chiamato ma non sono venuti perché magari non ce la fanno, abbiamo chiamato perché se un corpo come quello della polizia locale che è assolutamente al completo in pianta organica, quindi noi vogliamo comunque implementarlo, ma ad oggi è al completo, se tu non lo organizzi in modo e in maniera da come dire distribuire in modo intelligente e in modo assolutamente puntuale in base a quelle che sono le esigenze della città, tu hai una risorsa, un potenziale incredibile che non metti a frutto, io so esattamente cosa fare, l'ho detto anche ai membri al corpo di polizia locale, con me poliziotti di quartiere e nucleo specializzato antidegrado affinché le segnalazioni di voi cittadini siano prese in carico dal nucleo specializzato per fare tutti quegli accertamenti, quindi evitare e quindi fare prevenzione, perché oggi il problema è che repressione la fai poco, quante volte abbiamo sentito dire dai poliziotti prendiamo, andiamo in questura, li portiamo in questura, dopo tre ore li rivediamo fuori e allora devi andare a fare prevenzione e la fai con una, anche qua, con un corollario di situazioni che vanno ovviamente dalla sicurezza, ristabilire condizioni di sicurezza, dalla vivibilità dei quartieri e qui in questo modo lo fai, torniamo al decoro e quindi è un cerchio che si chiude, quindi non zone di degrado, io avrò un'ossessione da sindaco per la sicurezza, per il decoro urbano, per la pulizia della città, oltre ovviamente poi altre partite come la sanità, su cui sapete bene anche sulla sanità sono stata quella che praticamente ha fatto più atti di tutti in Consiglio Comunale, quindi con me sfondato una porta aperta, non al nuovo ospedalino, già mai. Chiarissimo, chiudiamo questa puntata e questa intervista con un'ultima domanda, ormai in clima di campagna elettorale i candidati a sindaco sono preparati alla gestione dei tempi televisivi, quindi ecco la sfida, un minuto di tempo, 60 secondi per chiudere con un commento che vuole lanciare, che vuole condividere con i nostri telespettatori, abbiamo parlato di sicurezza, decoro, lavoro, cos'altro dire? Un minuto di tempo a partire da adesso. Io voglio una Livorno sicura e non da coprifuoco serale, voglio una Livorno attenta ai commercianti e non intenta multarli se solo spostano da una parte all'altra una fioriera, voglio una Livorno non più degradata ma una Livorno pulita, attrattiva anche per i turisti, insomma io ho una visione di Livorno, per cui se non siete d'accordo con me fate bene a votare il sindaco uscente, il sindaco Salvetti, ma se siete d'accordo con me, anche se io non voglio parlare di voto utile, credetemi, non date il voto ad altri come ad esempio alle Alessandro Guarducci, il candidato, uomo di centro-sinistra, candidato in questa campagna elettorale del centro-destra, perché è la migliore assicurazione del sindaco Salvetti per tornare a fare il sindaco, perché sa perfettamente che la debolezza politica, non solo del centro-destra, ma del candidato a sindaco del centro-destra, Alessandro Guarducci, è per lui la più grande rassicurazione, la più grande carta da giocarsi al ballottaggio per tornare a fare il sindaco, mentre con me la partita sarebbe completamente diversa, come ho detto, con me si sparì le levo le carte e io sono assolutamente sicura di potermela giocare, per entrare in comune e avere quegli strumenti per poter incidere sulla vostra qualità della vita, per avere la speranza di veramente di migliorare questa città, di migliorarla per i nostri figli e per i nostri nipoti. Grazie Costanza Vaccaro per questa intervista e per essere stata con noi. Grazie a voi di tutto, della disponibilità e della gentilezza. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito e a SeaTrag Autostrade del Mare. A breve le altre interviste per i candidati Pezzone e Cosimi e a presto alle urne al voto. Quindi ci vediamo prossimamente, vi aspettiamo sempre su Politica e Territorio. Buonanotte. Il programma è offerto da SeaTrag Autostrade del Mare, impresa portuale ex articolo 16.